Come tutti gli anni organizziamo l'attività di prevenzione sulle norme di sicurezza, come sapete ogni anno noi facciamo una simulazione delle uscite e organizziamo ogni singola classe in modo che sia possibile che siano organizzati perché l'uscita sia sicura e senza problemi. Come sapete in ogni classe verrà segnalato un apri fila e un chiudifila che dovranno aprire all'inizio della fila, mettete all'inizio sulla fila e poi chiudere la fila e accompagnare la classe fino alle scale. La prima cosa da fare dovete sapere qual è il percorso che voi dovete fare. Se guardate lì in ogni classe c'è un quarto di sette anni con il vostro percorso. Come vedete qui siamo in quest'aula, la di undici, la di undici, quando deve uscire altre possibilità di uscire o andare dritto all'ascano sul piano o fare quest'altro percorso per uscire dall'altro percorso. Ehi, ma i sanno, non hai studiato manco oggi, si vede, non hai dormito, i sanno? risai, no. Mi dispiace! Uuuuh! Adesso non lo sapevo! Dai, dai! 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 Andiamo! Dai ragazzi andiamo! Siamo tutti dai! 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 Ancora di nuovo! Aiutate Emanuele! Emanuele! Emanuele golpe! Stanno qui in mano! C'è un'azienda! Ma è un mese! Grazie. Siamo scampati. La sicurezza nel laboratorio di TDP. Qui abbiamo le postazioni per saldare dove montiamo e assembliamo i nostri circuiti integrati. Questi tubi che vedete sono appunto per l'impianto d'aspirazione e vanno direttamente fuori e portano qua sul tetto per espellere tutti i gas non CV del piombo delle saldature. Questi banchi sono inoltre forniti di un sistema di sicurezza. In ogni banco possiamo trovare l'interrettore differenziale che è questo fungo qua rosso. In caso di contatto interrompe immediatamente la trasmissione di corrente. Questa macchina serve a depositare una pellicola produttiva sulle piste utili in maniera che tutto il rame su corpo già depositato sulle basente venga poi eliminato dalle macchine successive. Qui in basso troviamo dei recipienti per il recupero degli acidi esausti che vengono smaltiti in seguito. Arrivati qui siamo arrivati all'ultimo passaggio della nostra vasetta. Questa macchina ci permette di togliere la pellicola che avevamo depositata all'inizio per proteggere le piste di lame utili. Una volta uscita da questa macchina procediamo al lavaggio con semplice acqua e ci spostiamo da questa parte. Da questa parte troviamo dei trapani che ci permettono di forare le piste nei punti dove poi verranno inseriti i componenti. Questa operazione viene fatta con l'ausilio degli occhiali in maniera che pezzi e scaglie non ci finiscano negli occhi. Se vogliamo fare solo un esempio molto rapido. Come vedete è un'operazione semplice ma senza l'ausilio di occhiali e attrezzature professionali risulterebbe complicata e soprattutto molto dispendiosa da tempo. In quest'ultima parte troviamo un trapano a colonna, una mola e una sega circolare. Questi tre attrezzi non possono essere utilizzati dagli alunni se non per l'ausilio dei professori. Nonostante abbiano dei vetri che proteggono gli occhi e gli alunni sono utilizzati per grandi lavorazioni, infatti questo trapano lo utilizziamo su acciaio e alluminio, non sulle basette normali. Sega circolare e mola vengono utilizzati invece quando arrivate alla fine del percorso, vogliamo rifinire solo le basette. Il grande numero di computer ci permette in fase di progettazione di disegnare quelli che poi saranno i nostri circuiti e le basette che passeranno nelle macchine di acidi che abbiamo visto prima. Queste sedie inoltre consentono a noi di lavorare in maniera molto più comoda perché sono sedie ergonomiche. Allora, gruppo numero due. Quali sono le norme principali di sicurezza quando state in questo laboratorio? La prima è indossare il camice, la seconda è ancora molto più importante perché quando si fanno delle prove in laboratorio dove ci sono delle sostanze che potrebbero provocare danni agli occhi, si devono mettere gli occhiali di protezione, poi anche sempre nelle esperienze molto più importanti quando si usano delle sostanze chimiche che potrebbero farci inalare dei gas tossici, bisogna andare sotto la cappa, poi quando si usano delle fiamme libere bisogna raccogliersi i capelli sulla nuca quando si hanno i capelli troppo lunghi e a fine esperienza lavarsi le mani con cura per evitare che se magari successivamente c'è l'intervallo miglioriamo delle sostanze che abbiamo utilizzato in precedenza. Poi il laboratorio è vietato utilizzare strumenti non legati alle attività che svolgiamo, muoversi bruscamente o parlare ad alta voce e soprattutto mangiare o bere dopo che si hanno toccato delle sostanze chimiche molto dannose. Poi a inizio anno i professori ci hanno consegnato questo muscolo dove sono rappresentati tutti i simboli di pericolosità dei prodotti. Questi simboli ci aiutano a capire bene la sostanza che stiamo tocando e soprattutto cosa potrebbe succedere se noi tocchiamo o ingeriamo una sostanza. Ci sono sostanze esplosive? Sì. Cosa fate quando ci sono sostanze esplosive? Quali accorgimento usate? Beh, quando ci sono le sostanze esplosive, praticamente più delle volte i professori ci aiutano e comunque ci danno una mano perché comunque sono sostanze molto pericolose. Quindi bisogna avere un comportamento serio e non sbracciarsi o muoversi bruscamente e bisogna sempre indossare tutti i componenti di protezione. Ogni sostanza che utilizziamo comunque ha una sua etichetta dove è rappresentata il suo simbolo di pericolosità appunto dove noi riusciamo a capire come comportarci. Grazie. 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 e che cosa sia a spiegare un po' sulle norme di sicurezza per far sì che non succedano incidenti vari cosa bisogna fare prima di iniziare a lavorare? Sì, inizialmente bisogna controllare che tutti i bulloni siano serrati nella macchia il pezzo sia serrato correttamente poi bisogna naturalmente allineare l'utensile in modo che l'asse dell'utensile sia sull'asse del pezzo poi prima di lavorare bisogna abbassare tutte le protezioni, gli schermi qui ci sono anche dei microinterruttori che servono a non far partire la macchina in caso ci si dimentichi di abbassarlo poi naturalmente anche il salvavite deve funzionare correttamente bisogna vedere se schiacciando il pulsante si abbassa e sta percorrente in tutta la macchina poi per lavorare bisogna schiacciare il pulsante che mette in moto ah, prima bisogna andare a suba naturalmente dare attenzione poi il pulsante bisogna schiacciarlo però prima bisogna ricordarsi di abbassare questa protezione che fa funzionare il contatto la corrente abbassiamo tutti gli schermi poi si dà evidentemente forse nell'abitudine di fare queste cose hai dimostrato una cosa importante che comunque tu già hai più a dire gli occhiali bisogna fare gli occhiali parte questi schermi con l'ulto gli occhiali poi anche la punta la punta poi magari se durante la lavorazione il truccelo è fluente bisogna servirsi di un uncino per portarlo via con il manico in legno che almeno anche se il truccelo lo incastra e viene tirato può scivolare tranquillamente senza farci delle lesioni certo quindi quando c'è da sportare invece il truccelo naturalmente proteggerà le mani con guanti visto che il truccelo è caldo dopo che viene sportato bisogna fare molta attenzione visto che è caldo poi dopo un'altra cosa che in effetti io mi sento tanto che tu pure già hai accorreto c'è da dire un altro particolare le scarpe antinfortunistiche vengono utilizzate come sono queste scarpe antinfortunistiche? hanno una lamina di acciaio sulla punta che serve per in caso di caduta di qualche pezzo così non ci facciamo male ai piedi oltre alle scarpe antinfortunistiche bisogna avere anche una tuta con delle proprietà adeguate per esempio deve avere gli elastici ai polsi ai fianchi non deve avere delle cinture non deve avere delle pattine e nient'altro che sporco che possa andare a incastrarsi nella macchina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.